E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto dal titolo Andremo a giocare con un'arma che finalmente è tornata Perché per un certo periodo c'era ma aveva perso la sua potenza E finalmente è tornata sotto forma di arma bestiale E sto parlando ragazzi del Ross Lysys Finalmente quest'arma è tornata e riesce a fare il danno che faceva all'inizio Perché veramente era qualcosa di spettacolare Poi con l'ultimo metal l'ha depotenziato tantissimo Ma adesso ragazzi veramente è qualcosa di spettacolare Non c'è modo per descriverla Se volete andate a vedere il vecchio video del Ross Lysys Che avevamo fatto un sacco di tempo fa, tipo due mesi fa Prima che uscisse Warmind sicuro Perché era veramente veramente molto forte E adesso andiamo subito a vedere i pochi perk che ha Ma veramente vi assicuro che è tornata È tornata Andiamo subito a vedere Abbiamo un taglio adottivo Quindi un pugnatura di ottima fattura Affidabile e resistente Due tipi di mirino Mirino laser OAS Che è un mirino di precisione a zoom medio Che aumenta la gittata e leggermente la maneggiavolezza E rapida estrazione IS Mirino agile a zoom redotto Che aumenta naturalmente la maneggiavolezza Preferisco il mirino laser medio Perché aumenta di parecchia la gittata E perché questo qua è un cerchietto metallico Quindi mi fa abbastanza schifo Dopodiché abbiamo Caricatore flangiato Quindi ottimizzato per la ricarica rapida Aumenta le aumenta di stabilità A velocità di ricarica E oscillazione ridotta Tra l'anno premuto il gredetto Il sistema di anti-oscillazione di quest'arma Migliora la precisione del tempo Perché è veramente utilissimo per quest'arma Tra l'altro La forma perfetta di quest'arma sarebbe così Perché guardate quanto è figa Solamente che voglio aspettare di prendere Di prenderla al massimo di luce Che adesso arriverà con forsaken Perché se no butto solamente scelta di Kalos Detto questo vediamo subito Come ce la caviamo in partita Ok siamo in vostro Che andiamo subito a vedere la potenza di quest'arma Tra l'altro siamo sempre in controllo Una palla allucinante Esce solo controllo Adesso vediamo un po' Dovremmo mantenerci un attimo sul sicuro Perché è un po' grandicella vostro Che questo diciamo che non è un minimo Un automatico da lunghe distanze Ma fa ma ma ucciso quello stronzo dietro Comunque veramente fa malissimo ragazzi È tornato ad essere qualcosa di allucinante Non so se avete provato il querelante Dal cambio di meta Che anche quello veramente è molto forte E per farvi un'idea Se avete provato il querelante Capite di quanto sia devastante quell'arma Quest'arma è ancora più devastante Perché? Perché il querelante fa 25 in testa Con una cadenza di 400 colpi 450 colpi al minuto Questo fa 21 in testa Con una cadenza di 600 colpi al minuto Quindi il querelante fa 11.250 colpi al minuto Mentre il draw slice Se ne fa 12.000 Spallata! Quindi capite da soli Quanto sia veramente devastante Dicevo l'unica pecca È la gittata Che è vero che sia Abbastanza alta in realtà Cioè nel senso Dalle medie distanze Forse anche meglio lunghe Ce la riusciamo a cavare Però comunque la stabilità È un pochino È un pochino bassa Quindi bisogna cercare Di mantenersi comunque Dalle distanze più corte Che riusciamo Poi magari Dalle lunghe Lo accompagniamo Con un'arma dalle lunghe distanze Molto forte Come può essere Il discorsino orale Come potrà essere Il requiem Quanto non l'ho preso mai Questo Vedete che se siamo vicini Facciamo veramente Ma veramente malissimo Cioè qualcosa di allucinante Io Un set che non ho ancora Ben provato Ma che più o meno Penso funzioni È questo qua Ross slice Il discorso inaugurale E Sussurro del verme Perché veramente Il Vabbè Il discorso inaugurale Non ve lo sto a dire Quanto sia forte Questo mi ammazza Sicuro E invece no Che mostro Però ovviamente Dalle medio corte distanze Si va a dire Ross slice Che fa malissimo Cioè qualcosa di strabiliante Dalle lunghe Il discorso inaugurale Ok Questo appeso Danno un po' tutto insieme Però vabbè Ovvio Contro una mitraglietta Non è Non è proprio Facilissimo Vincere Considerando che comunque È una mitraglietta Quindi Dalle corte distanze È ovvio Che sia molto più forte Ma Se vi tenete Dalle medie Ma che vuoi fatto Sono sto pompa Se vi tenete Dalle medie Veramente riuscite A fare qualcosa Di dolorosissimo Si L'ho preso Che culo Comunque Sono felicissimo Ovviamente Che l'abbiano fatto Tornare Come arma forte Perché arma forte È sempre stata Giusto con questo Meta Un attimo Leggermente esclusivo Erano riusciti A farlo Sminuere un attimo Però devo dire Che è tornato Col botto Veramente Fa malissimo Dalle corte distanze Dalle corte distanze È difficile Comunque ragazzi Rimane difficile Perché Perlomeno con questo Merino Perché è un Merino a zoom Medio Quindi Dalle corte distanze Non è che abbia La migliore Delle maneggiovolezze Invece Anche dalle Distanze Un attimino più lunghe Fa male L'ultima L'unica pecca È la stabilità Perché comunque Bisogna cercare Di farlo rimanere In testa Non è che sia Proprio tanto Facile Ovviamente aumentando La distanza Normalmente si riesce Oh pugno Uno l'ho fatto Eh vabbè Fa mortissimo Quello sta sempre Lì camperato col pari Adesso va Lo picchio male Questo costo Mamba rosso Mi destabilizza Tantissimo Ok È morto Ok Bella questa Eh no Questo mi ha aperto Bisogna ragazzi Iniziare a provare Tantissime armi Perché veramente Le hanno resettate tutte Ieri sera è live Se non l'avete visto Ne abbiamo provate alcune Ma Veramente Ce ne stanno Altre che Sono state reinterpretate In una maniera allucinante Quello non Oh È morto Non mi sembra Di star facendo Chissà che partita Prima l'avevo fatta Una Decisamente migliore No 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 Volevo fare una spallata Ragazzi Il discorso in angolale È devastante Non perdetevi il video Che uscirà breve Sul canale di Luga Perché veramente Fa veramente male Va bene Abbiamo perso Non ho giocato nemmeno Chissà quanto bene Però vi assicuro Ragazzi Che l'arma è devastante Dovete solo riuscire a Trovare qualcosa di equilibrato Vedo che anche che eravamo in Vostok Quindi Le distanze erano abbastanza lunghe E usare solo l'arma Ok Non ho giocato bene Ho fatto 19 kill E 1,36 Però Veramente La partita prima Avevo fatto 27 kill 2,36 O una cosa simile 207 Non mi ricordo adesso bene Comunque veramente L'arma è forte Magari appunto In una mappa tipo Vostok Che è abbastanza lunga Come distanze Bisogna cercare Di accompagnarla Da un'arma Che sia forte Dalle lunghe distanze Come può essere Un discorso inaugurale Come può essere Un re Che comunque Alante O comunque appunto Qualcosa che riesca a compensare Perché avete visto Che dalle medie distanze Spacca Dalle lunghe I colpi arrivano Però bisogna mantenere Il danno in testa Che comunque Con questa stabilità Non è che sia proprio facilissimo Mentre dalle corte cortissime Bisogna cercare Di evitarle comunque Perché Se vogliamo Coprire le cortissime Abbiamo le lunghe scoperte Con una seconda arma Mentre se vogliamo coprire le lunghe Abbiamo le cortissime scoperte Alla fine le cortissime Sono diciamo Quelle che si possono evitare Un attimino di più Quindi secondo me Il mio consiglio È quello di accompagnarla Con un'arma Che sia particolarmente Forte da lunghe distanze E che quindi Riesca un attimino A compensare Poi magari In mappe anche più piccole Come può essere Stendardo decaduto Oppure Valle infinita Riuscire anche A utilizzarla da sola Senza problemi Però appunto In questa Era un attimino difficile Quindi ragazzi Il Roslass è tornato Io spero che il video Vi è piaciuto Se lo lasciate La like Commentate Condividetelo Tutti quelli che non conoscete Che c'è altra Seguite anche su Instagram Facebook Come ogni video Vi lasciamo qua sotto In descrizione Anche il bellissimo Fattacissimo sito E detto questo Ci vediamo alla prossima Ciao Io sono Gaud E la tua luce È mia